bene cari amici ultimo video per il momento di questa giornata poi ne arriveranno altri nel corso appunto di oggi parliamo di tennis torneo ATP New York USA al cemento coperto semifinale il nostro tenista con nazionale Andrea Sosepi numero ATP 98 sorprende anche Young numero ATP 131 per 2 7 a 0 6 3 6 2 in un'ora e 25 minuti vittoria di seppi quotata bene 1 e 72 1 e 66 1 e 60 adesso il nostro caro tenista con nazionale se la vedrà questa sera in tarda serata le 22 contro Edmond per quello che potrebbe essere a questo punto credo che dovrebbe essere il primo torneo stagionale di seppi comunque ingrocemo le dita come dice lino benvi chiudo appunto ribadendo seppi va in finale al torneo ATP New York USA cemento a coperto battendo in finale Young numero ATP 131 mentre seppi numero ATP 98 per 2 7 a 0 6 3 6 2 in un'ora e 25 minuti ciao a tutti a tutti a più tardi ciao ciao a tutti 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 Oh...